Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Jean-Michel Vilmotte, ha uno studio di 270 persone circa, centrata in Francia, a Parigi, ma con diverse aperture, diverse filiali in giro per Medio Oriente, ma questo non gli ha mai escluso il mercato sudcoreano o Singapore o altri mercati in giro per il mondo, perché è un architetto che sa fare le cose, e non è che sa fare le cose belle nell'architettura, ma sa fare le cose belle nei progetti globali dove oltre all'architettura c'è anche la parte di tutto, non l'interior decorator inteso in senso classico, ma con tutta la logistica fino alle parti tecniche e tecnologiche per assistere i loro clienti. Opera in tanti settori, ma non è solo questo, è che lui ama il design, pertanto amando il design e le cose belle ha un settore col quale fa proprio l'industria al design. Io ho avuto la fortuna o la sfortuna, perché dopo tanto tempo che tu conosci una persona, prima o dopo viene anche a stancare, dico ma sai, propone sempre le stesse cose, gli dico una cosa, me ne fa mezza, purtroppo ha questo grande difetto, infatti quando l'ho conosciuto, sono trent'anni, benvenuto, quando l'ho conosciuto trent'anni fa, stava progettando, stava realizzando la piramide del Louvre e noi, e ha utilizzato i nostri prodotti per la prima volta, che era lo shuttle, che era una linea di prodotti disegnata da Jackley che ha avuto un successo enorme con passo d'ora, eccetera, eccetera, per la biblioteca e questo chiaramente ci ha consentito di conoscere il nome, perché non l'ho mai conosciuto personalmente, fino a circa vent'anni fa, ventidue anni fa, dove chiaramente frequentando abbastanza la Francia, perché io conosco tante lingue, ma tra queste un po' di francese insomma, smoccichiamo, però ci facciamo capire, chiaramente ho avuto il piacere di conoscere tutta la sua struttura, di vedere anche da parte dell'industria del design e abbiamo incominciato sostanzialmente lui a utilizzare i nostri prodotti e io incuriosito delle cose che faceva a capire, vedere, siccome ha disegnato anche un po' di luce per gli esterni e ha disegnato dei prodotti che sono stati estremamente innovativi, cioè la luce indiretta per esterni, l'ha disegnata, l'ha inventata già Michelle Belmotte prima che la presentasse Philips o altre aziende, compresa noi con Renzo Piano se ricordate, così tanti altri prodotti per gli esterni della rete urbano in particolare e conoscendo e vedendo la sua mano, avendo fatto dei costi di successo, ho chiesto se così poteva fare qualcosa anche per noi e gli ho dato un brief all'epoca, chiaramente sempre con Franco Livaldi, che lo sapete, la spalla destra e sinistra nel settore del design per l'azienda, lo è stato per me e pertanto cercavamo di vedere dove dovevamo andare e che cosa potevamo chiedere. Allora ha una idea, non so se ti può interessare di disegnare qualcosa per gli esterni oppure un prodotto così oppure un prodotto cosa per gli interni e quant'altro. Questo architetto preso da questa passione per l'architettura e per il design, per le cose belle, perché lui si qualifica, è un amante, è un grande amante, ha un grande amore, ha un grande colore e lo mette dappertutto, sempre, compreso oggi, dove ancora stava lì a schizzare le cose che avevamo già visto insieme tempo fa con tutto lo staffo ovviamente, ma no, disegnava il dettaglio. Allora mi ricordava Renzo Piano quando in ginocchio dentro il lingotto stava lì per terra con lo stivale, io mi stavo accocciando per disegnare il piede, il piedino della lampada lingotto da terra. Insomma, ecco, è un uomo che quando gli chiediamo qualcosa ci mandava giù un fascicolo di idee, altro così. E oggi purtroppo ce le siamo riviste un pochettino e in mezzo a queste tante idee, chiaramente, dobbiamo ogni volta fare delle scelte, ma non, abbiamo organizzato tanti prodotti, ma ne voglio dire uno per tutti, ed è la linea luce. La linea luce è un prodotto che illumina verticalmente le facciate, dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. E onestamente lui aveva un progetto importantissimo, noi avevamo già la linea, non la linea luce, avevamo già la luce indiretta che aveva disegnato Piero Castiglioni, prima per la M con una cosa rotonda, con una lente ellittica, poi il radius, prima legge, poi il radius, sempre qualificando e crescendo, eccetera, ma non avevamo una cosa che veramente creasse a 20 metri d'altezza verso l'alto, verso il basso, una cosa del genere. E lui viene e dice, guarda, a me interessa questo prodotto qua, ho bisogno di questo prodotto che è un grosso progetto in corso e ho pensato di illuminarlo in questo modo. Siamo partiti, abbiamo realizzato questo prodotto ed è un prodotto che ancora oggi vive innovandosi, rinnovandosi ed è il prodotto più copiato al mondo nel modo più assoluto. Tutte le imprese che operano nel settore degli esterni, ma anche nel settore degli interni, lo hanno imitato o copiato integralmente i cinesi, almeno mille aziende l'avranno fatto, gli americani, giapponesi, eccetera, perché è un sistema che chiaramente ha risolto un problema importantissimo per l'architettura architettorale e di interni ed esterni, ma soprattutto degli esterni. Allora ecco, con un rapporto di questo tipo, voi capite che c'è stata tanta passione nel rapporto, purtroppo non vi nascondo che qualche volta arrivava qui in aereo privato, perché lo guida pure, sull'area superficie di Castelfidardo, Villa Mosone, diciamo così, e una volta parlavamo e si addormentava, dico senti, io so che non ti interessa troppo quello che ti devo dire, però guarda, se sei stacco, andiamo a bere qualcosa, andiamo a fare un po' di ginnastica e così via. No, a parte gli scherzi, cioè è una grande persona, un grande uomo, ha una grande passione per la passione per il lavoro, per il design, per l'industria del design e per l'architettura, ma non solo questo, perché poi ha una sua fondazione con la quale invita i giovani del mondo a concorrere nel suo concorso che lancia ogni due anni e li premia in occasione della Biennale dell'architettura a Venezia in uno spazio che si è fatto, che è lì da tanti anni ormai e che tutti gli anni porta questo contributo, ma viene in Italia a fare, a premiare questi giovani che vengono dal mondo. Ecco, io dico, ne ho dette tante, ne ho dette poche, io dico, sono sempre poche rispetto a quello che lui ha fatto e pertanto penso che sia una grossa opportunità per tutti voi, perché molti sono giovani studenti, architetti e professionisti comunque, ne vedo qualcuno qui avanti, insomma, che sono anche uno di Reganati, Mattutini, che lavorava con Foster, non per tanto gente che, nonostante dalla patria dei Lopardi, si è mossa prima a Londra, poi in giro per il mondo, Archetti che era lì con noi prima, insomma, che è un'altra persona che sapete, così come tanti altri, cogliamo l'occasione in questi casi, in cui invitiamo degli architetti o delle design a farci una testimonianza, tutti coloro che possono essere interessati alla bellezza del mondo. e qui abbiamo uno, no, tra i più importanti attori che io abbia conosciuto, un uomo che lavora solo e quando dicevo che era stanca era perché stava lì ancora con la benna a cercare di, no, sviluppare l'ultimo pensiero. Michel, a toi allora la parola, eh? Je m'excuse pour la presentazione, mais... et voilà. Ok? Ok? Buonasera a tutti, Adolfo ha fatto una presentazione, non bisogna credere a tutto quello che dice, eh, perché effettivamente ha molta fantasia Adolfo, ma comunque sono, è vero, 30 anni che ci conosciamo ed è una sorta di anniversario, di compleanno stasera, una sorta di compleanno, 30 anni insieme dove ci siamo seguiti per anni e anni e quindi effettivamente è un'ottima collaborazione quella che esiste tra noi, ma soprattutto in un ambito incredibile perché penso che quello che accade oggi e quello che è accaduto in 30 anni è qualcosa di nuovo. Diciamo che tutto è cambiato, in passato c'era incandescenza, fluorescenza, ora è tutto nel LED, ma soprattutto oggi è tutto miniaturizzato, tutto è ridotto all'osso come dimensione e quindi effettivamente se guardiamo quello che è successo, quello che abbiamo disegnato in questi anni, ci rendiamo effettivamente conto che tutto è diventato oggi un po' obsoleto, tutto è diventato un po' obsoleto oggi, un po' superato perché oggi la, come dire, la miniaturizzazione, la miniaturizzazione ha completamente cambiato appunto la nostra azienda, la nostra impresa, non è più la iguzzini dell'epoca, ma la prima volta che sono venuto qui, Cucinella, questo edificio non era ancora realizzato, quindi ero ancora nella prima volta nell'edificio di Adolfo e effettivamente tante cose sono accadute, oggi ritorno qui un po' sul luogo del crimine per così dire e devo dire che ci sono tante cose da fare con le nuove tecnologie, tante cose da reinventare e quindi penso che bisogna andare a cercare un po' nei cassetti anche con Franco Nibaldi, Franco Nibaldi che voleva andare in pensione ma che invece torna e qui deve essere con noi, magari si annoiava a casa e vuole venire a lavorare con noi e quindi sicuramente lavoreremo insieme a nuove linee straordinarie immagino e bisogna comunque sapere una cosa, come dire, le lampade sono qualcosa che si vedevano all'epoca, oggi sono invece talmente piccole che non le vediamo più queste lampade, non esistono più oggi, l'unica cosa che è importante è il trasformatore, il giorno in cui troveremo un trasformatore più piccolo a quel punto tutto scomparirà ma lancio la sfida ad Adolfo per trovare un Adolfo che passi per un buco di pochi millimetri. Comunque per me, ripeto, 30 anni è un anniversario, un compleanno ma anche una rinascita perché ho l'impressione che faremo di nuovo altre cose con tutto il team di design qui che è straordinario, il team interno e esterno e potremo fare delle cose molto molto belle, straordinarie. Vi vorrei far vedere il lavoro che ho realizzato, come vedrete la luce è molto importante nel nostro lavoro perché effettivamente è quello che mette in evidenza, quello che valorizza l'architettura e quindi per me la luce è onnipresente in tutto ciò che realizziamo, la luce è fondamentale e quindi come dicevo è lo spazio, è la materia e la luce. Sono tre elementi fondamentali del nostro lavoro e quello che ritroveremo durante tutto il progetto. Allora, vi parlo del nostro ufficio, magari mi metto qui. Abbiamo un'agenzia oggi con 270 collaboratori, appunto, 270 collaboratori che sono per lo più collocati a Parigi. Abbiamo un'agenzia piccola anche a Londra, una nel sud della Francia, a Nizza, della fattispecie e poi apriremo, qualcosa non scoop questo, un'agenzia anche a Milano tra 3-4 mesi. Quindi ecco in grosso modo la presentazione, 270 collaboratori, comunque direi, è un team importante, lavoriamo in tantissimi paesi, come vedete, 27-28 paesi addirittura e oggi l'agenzia è fatta da 25 nazionalità diverse. Non so quante nazionalità avete qui dai guzzini, ma direi comunque che 25 nazionalità sono importanti, è un incrocio un incrocio di culture tra coreani, italiani, inglesi, spagnoli. È quello che fa veramente un melting pot di culture e che rende la nostra agenzia molto dinamica e ci rende molto creativi, molto creativi. E poi il fatto anche di lavorare in 28 paesi è una grande fortuna, da Dakar se andiamo alla Russia o ancora in Azerbaijan, in Inghilterra, Svizzera, Belgio, eccetera. Ed è tutto questo che rende appunto il nostro lavoro più creativo, magari più creativi noi rispetto ad altre agenzie che sono specializzate su un argomento. Noi non lavoriamo solo su un ambito, passiamo da uno stadio a un ospedale, cambiamo continuamente il progetto ed è questa la forza della nostra agenzia. Non abbiamo nessuna specializzazione, tra virgolette. Allora, architettura e luce, questo è il tema sul quale appunto incentreremo la presentazione e comincerò dai musei. I musei costituiscono un ambito importante. I musei, ripeto, sono molto importanti per noi, ma direi che adoro anche i musei. Quindi per me fare un museo è più la passeggiata che un lavoro vero e proprio. E vi farò vedere una carrellata perché qui nei musei la luce è importante, gli oggetti devono essere illuminati bene. Quindi tutto ha nella relazione tra l'oggetto e la luce che lo illumina. Vi farò vedere un oggetto, un museo del 2013, un museo di Amsterdam, un ex museum. È un museo, sì, diciamo della fine del XIX secolo che è tipico dell'architettura di Amsterdam. Qui abbiamo, vedete, in qualche modo contestualizzato questa parte, questo quadro dove possiamo trovare quadri di Vermeer, di Rombron. Come vedete abbiamo in qualche modo valorizzato questo lavoro, ci ha portato via tre anni e abbiamo lavorato su sistemi di struttura, rotondi o quadrati dove abbiamo messo le lampade. Non abbiamo potuto lavorare insieme perché purtroppo abbiamo dovuto lavorare con Philips, ci è stato imposto perché faceva parte del patrimonio appunto dei Paesi Bassi. Comunque per farvi vedere che uno dei nostri must è il colore e qui effettivamente il colore è interessante, questo grigio blu è un po' la nostra firma e abbiamo creato come una sorta di rivestimento grigio e blu per mettere in evidenza le pitture antiche come una sorta di studio, di ufficio, ecco, un qualcosa di interessante. Ecco, vedete cosa abbiamo potuto realizzare qui, tra l'altro la collezione di oggetti è molto interessante. Quindi vedete qui non c'è tanta struttura nelle vetrine, le vetrine sono molto leggere e le vetrine le vediamo appena, vedete come qui effettivamente sono spazi incredibili che si trovano nell'interrato del Rix Museum e questa parte, effettivamente qui vediamo solo gli oggetti, è come una messa in scena, come se fossimo nello studio di un collezionista, ecco, guardate la luce, guardate la luce, come è ben fatta, come la luce è organizzata, come mette bene in evidenza gli oggetti, è questo il successo di un museo, per esempio, qui vedete delle paratie di vetro e poi ci sono le armi che sono presentate qui, una presentazione del genere è interessante nello spazio con fucili o pistole, questa è una paratia di 45 metri, 45 di spessore e vediamo come è appunto la luce che gioca un ruolo essenziale, che valorizza il tutto ora vi faccio vedere un altro museo, il museo del Qatar, museo di arte islamica un progetto che ha avuto molto molto successo, grazie al quale abbiamo avuto anche altri progetti enormi, ecco, questo è l'edificio, realizzato da Pei e qui vedete appunto la parte biblioteca e poi la parte museografica, è un museo molto particolare questo, lo abbiamo realizzato nel 2008 quindi 11 anni fa, occorre sapere che tutto questo edificio è illuminato con fibra ottica con per esempio gli armadi in ogni sala, sono realizzati in questo modo per esempio ci sono appunto dei fasci di fibre ottiche che illuminano le vitrine ed era uno dei primi progetti del genere con l'uso delle nuove tecnologie qui ovviamente la luce deve essere puntuale e non bisogna avere eccessivo calore nelle vitrine quindi nei locali tecnici ci sono le luci e qui non c'era affatto calore nelle vetrine vedete anche qui la luce è fondamentale, è formidabile appunto la luce viene organizzata tramite queste fibre ottiche con materiali che vengono ben valorizzati le sale sono fantastiche, sono molto vive, molto dinamiche questo è un altro esempio, ogni tanto vedrete dei loghi in alto perché in questo caso è stato utilizzato un materiale iguzzini quindi qui effettivamente è stato utilizzato un materiale iguzzini e come vedrete saranno i progetti sicuramente più belli poi, cosa altro posso aggiungere? magari non è sempre indicato però anche in altri progetti l'abbiamo messo il materiale iguzzini allora si tratta di un altro progetto come dicevo interessante lo abbiamo terminato non molto tempo fa ma ha cominciato in realtà molto tempo fa si trova diciamo anche nel sottosuolo dove appunto abbiamo scavato fino alla profondità di 20 metri come appunto ci fosse stato un bombardamento e appunto una bomba, quindi quasi un terreno scavato magari riconoscete questi apparecchi? li riconoscete questi apparecchi luminotecnici? è stato un enorme progettore oggi gli apparecchi che faremmo, potremmo fare oggi ovviamente sarebbero molto più piccoli all'epoca c'era il trasformatore a fianco e appunto gli apparecchi erano diversi ma comunque ancora oggi sono utilizzati e restano comunque ancora molto efficaci qui siamo nel museo del Chiado prima che incontrassi Adolfo un ottimo progetto un bel appunto progetto realizzato in un antico convento e anche se non l'abbiamo fatto con Guzzini vedete che anche qui la luce è importante è fondamentale e come vedete appunto gioca a ruolo centrale questo invece a Seul abbiamo fatto un progetto non illuminato l'abbiamo fatto appunto nel 98 uno dei primi che abbiamo fatto in questo modo col cestello col cestello esatto con il cestello e tutto il museo è stato illuminato con il cestello è spento questo? no, è acceso qui siamo in Cina abbiamo trasformato un'azienda appunto d'armi una vecchia azienda d'armi in museo e qui vedete gli anni qui credo che non avessimo la possibilità di prendere altro materiale quindi abbiamo usato un materiale cinese quindi abbiamo mantenuto le tracce degli antichi camini un ottimo posto bellissimo posto qui il museo Lalique questo è un museo Lalique è una grande vetreria una vetreria all'italiana Lalique appunto era il nome e questo è il museo che abbiamo fatto un progetto importante e qui vedete appunto il cestello che appunto magari li sostituiremo con qualcos'altro questi cestello comunque nella parte centrale c'è questo grande lampadario credo 3 metri alto 3 metri abbiamo fatto anche il museo del presidente Chirac qualche anno fa il presidente Chirac riceveva molti regali non sapeva che farne e quindi doveva metterli da qualche parte e questa è la sua città natale in campagna abbiamo fatto questo progetto per lui per il presidente l'ex presidente Chirac quindi come vedete sempre una valorizzazione una contestualizzazione con la luce sulle vetrine è sempre fondamentale la luce lui è un grande conoscitore d'arte d'arte africana in particolar modo recentemente abbiamo anche rifatto la parte degli impressionisti del museo d'Orsay a Parigi e quindi qui vedete la parte che è stata fatta era molto luminosa e molto chiara e gli impressionisti invece non amavano questo spazio quindi lo abbiamo rivisitato questo elemento questa ala poi il museo dell'Uvr le arti primitive questo abbiamo fatto insieme questo progetto è un progetto interessante e capirete perché vedrete perché abbiamo consegnato nel 2000 ma vedete quello che abbiamo realizzato abbiamo preso del cestello ma appunto la conservatoria voleva che si mettesse la luce dappertutto non solo diciamo in un angolo particolare quindi che non ci fossero ombre quindi qui c'è una concentrazione vedete qui c'è un binario un binario nel quale abbiamo messo uno spot ma questo scorre scorre lungo la barra e questo cestello scorre anche lui sul binario quello si sposta in tutti i sensi quindi praticamente non c'erano punti d'ombra questo progetto ci ha aiutato molto perché è grazie a questo progetto che poi abbiamo fatto il progetto di arti islamiche ed altri quindi è un progetto molto importante e osservate queste foto sono magnifiche sono fatte da un fotografo veneziano che ha appunto realizzato queste immagini non c'è deformazione è una grande bellezza naturale quindi qui vedete di nuovo il principio c'è uno spostamento qui e qui nell'altro senso quindi a 300 gradi questi funzionano quindi diciamo che è stato un progetto che ci ha portato via parecchie energie ma è andata bene e qui di nuovo delle vetrine vetrine senza una particolare struttura perché prima bisognava mettere delle vetrine molto pesanti perché persone potevano arrivare con dei fucili e invece adesso ci sono dei controlli all'ingresso e quindi non ci sono più problemi di sicurezza quindi le vetrine oggi possono essere più leggeri di un tempo dove invece prima appunto erano più pesanti perché dovevano reggere appunto i colpi di eventuali armi queste altre immagini del museo è un oggetto di antichità come vedete diventerà quasi una collezione vintage come i cestello diventeranno articoli vintage non bisogna buttarle via attenzione e recentemente abbiamo fatto anche questo sono innamorato di Geoponti è un architetto universale un grande creativo ha lavorato su oggetti d'arte su ceramica su argenteria ceramiche praticamente ha lavorato per cassina per tanti ed è un grande grande insomma nome e ho fatto una mostra a Parigi vi farò vedere molto rapidamente delle immagini questa ricorda la cattedrale di Taranto qui era stata ripresa in qualche modo e quindi abbiamo realizzato questa mostra di arti decorative a suo nome con appunto le sue terracotte piuttosto delle porcellane di ginori con metalli anche argento una bellissima mostra perché ha cominciato Geoponti a fare mobili da 30 anni e fino a 60 70 anni lo ha fatto è stato veramente un uomo straordinario e sicuramente lo conoscerete molto bene perché il suo progetto il suo progetto di vita è stato molto interessante lo conoscerete ha fatto grandi cose formidabili fino alla fine e qui vedete altre cose bellissime tutto quello che ha fatto abbiamo rifatto delle sale non ho ancora visto l'esposizione la mostra perché la mostra è stata prolungata abbiamo fatto una mise en scène qui molto interessante questo è un museo che abbiamo fatto a Forlì quindi conoscete tutto Forlì c'è un museo che si chiama San Domenico e l'abbiamo fatto recentemente ristrutturato recentemente e qui muri con il mattone con una sorta di doppia pelle per presentare le opere cose straordinarie con elementi che sono rimasti allo stato grezzo e poi c'è questa sala molto bella vi consiglio di andarlo a visitare questo museo perché non è molto lontano poi a Venezia per la Biennale di Arte Contemporanea due anni fa abbiamo fatto questa mostra su Damien Hirst e anche qui abbiamo fatto un lavoro enorme vedete c'era l'oggetto da mettere in evidenza e qui ci sono degli oggetti da mettere appunto nelle varie vetrine oggetti molto belli ma anche la luce qui gioca un ruolo fondamentale e era Dogana le immagini precedenti qui invece abbiamo fatto anche i cosiddetti monumenti per la pace le abbiamo realizzate a Parigi Tour Eiffel a San Pietroburgo a Chioto addirittura come vedete è la parola pace a Hiroshima scusate mi riprendo non a Tokyo e come vedete qui ci sono appunto le parole pace che sono ripetute e sono messe in scena ora vi presento un edificio che mi ha appassionato veramente abbiamo realizzato la cattedrale ortodossa di Parigi per la Russia si tratta di un luogo straordinario lungo Senna e lo abbiamo realizzato questo luogo una cattedrale che vedete in foto mi piace molto vedere il Sacri-Coeur e qui vedete proprio lungo fiume lungo Senna e vedete quello che è stato realizzato alla fine con delle cupole in oro sono molto straordinarie perché è un oro opaco ed è un mix di palladio e di oro 50 e 50 un mix di due materiali perché permettono di ottenere questa bellissima luce sulle cupole e è la prima volta che è stato realizzato è l'ultima prima e l'ultima volta che è stato realizzato un progetto del genere in carbonio in realtà è stato un produttore di navi di barche che è stato consultato da noi fa appunto imbarcazioni elementi in carbonio e quindi lo abbiamo consultato lo abbiamo contattato e ha fatto gli elementi in carbonio quindi i bulbi queste cupole hanno questo spessore qui è veramente poco spesso e vedete sono in 4 o in 8 pezzi a seconda appunto delle varie cupole qui vedete altre immagini piuttosto straordinarie è un progetto che mi è piaciuto tantissimo si trattava di leggere con contemporaneità i canoni della civiltà e della cultura ortodossa quindi abbiamo fatto questo progetto che è molto interessante che il presidente Putin peraltro è venuto a visitare da solo era un piccolo gruppo di sole tre persone è stato un momento fantastico straordinario ho avuto la fortuna di passare un'ora e mezzo con lui mi ha fatto tante domande su questo progetto ma all'interno non è completo ancora completato ci saranno degli affreschi dei mosaici sui muri mi piace tantissimo anche questa foto qui siamo al centro di Parigi quindi veramente i tetti di Parigini e invece con questa immagine della cupola questo è un altro progetto il Collège de Bernardin un edificio molto antico che aveva subito danni importanti ed è diventato una sorta di scuola per i cattolici scuola di insegnamento superiore quindi lo abbiamo fatto peraltro recentemente questo progetto poi uno degli ultimi progetti che abbiamo consegnato è il palazzo dei congressi di Metz come vedete un bellissimo edificio molto difficile fare come dire questi progetti sui palazzi congressi e qui siamo di fronte al palazzo Pompidou a Metz vedete con queste pietre è come se fosse del merletto si gioca con trasparenza con luce vedete che bello con grandi corridoi con delle sale magnifiche questo per esempio è stato fatto in 18 mesi questo progetto è stato un concorso spesso facciamo i concorsi in Francia e lo abbiamo vinto ed ecco abbiamo fatto un teatro a Fréjus giusto per farvi vedere la diversità di quello che realizziamo un grande sala tutto in legno ho sempre detto che avrei voluto sempre realizzare una piccola opera come all'interno di un strumento musicale come all'interno di uno Stradivarius eccolo è una sorta di interno di uno strumento musicale abbiamo fatto anche una sala a Ginevra un progetto semplice con un budget più ridotto la luce è sempre presente vedete la luce crea delle sequenze crea appunto degli elementi fondamentali un anno fa abbiamo realizzato questo progetto a San Paolo 100.000 metri quadri un luogo espositivo fantastico un centro congressi San Paolo un centro culturale lo abbiamo fatto come vedete a Seul vicino a Seul veramente questo edificio era abbastanza importante con una forma particolare dettata da un incrocio perché praticamente siamo all'incrocio di più strade e quindi è la topografia del luogo che ha decretato la natura dell'edificio e qui vedete gli interni un luogo molto molto bello qui vi faccio vedere un altro ambito sul quale lavoriamo le scuole i campus questa è la scuola dell'avvocatura per i giovani appunto che intraprendono la strada forense e che si specializzano per diventare avvocati quindi questo è un edificio molto semplice in vetro in cui abbiamo messo inserito anche del legno qui è molto illuminato dalla vostra azienda quindi vedete qui si gioca davvero sulla protezione della luce protezione della luce trasparenza è un luogo molto bello facciamo anche tantissime appunto sale tanti auditorium questo è invece un progetto futuro che faremo sarebbe bene appunto lavorare con voi su questo progetto sarà il campus di scienze politiche a Parigi su un ettaro vicino a San Germain un concorso con un grande anfiteatro vedete un luogo fantastico sorprendente con questo anfiteatro un altro campus che faremo presto è appunto una grande scuola parigina questo campus in particolare sarà rivisitato completamente grazie al nuovo progetto quindi qui vedete un luogo di convivialità dove gli studenti prof si potranno incontrare in un luogo gigantesco un luogo di incontro e di scambio e poi ci sono appunto noi abbiamo proposto in questo luogo di far ritrovare le persone questo invece è un progetto di un vecchio ospedale che abbiamo ristrutturato e abbiamo realizzato degli appartamenti il sindaco non sapeva cosa fare del progetto quindi abbiamo creato degli appartamenti quindi un recupero importante di un edificio antico è sempre molto difficile innovare rinnovare degli edifici per farne nuovi appartamenti qui altri nuovi progetti quindi faremo anche qui un progetto su varie migliaia di metri quadri con c'erano qui una settantina di stazioni intorno a Parigi e su ogni stazione verrà realizzato un progetto urbano il progetto chiamato di Gran Paris dell'area vasta di Parigi ecco questo è il progetto quindi che verrà realizzato a Olé-Subois qui idem Olé-Subois anche qui ci sarà una stazione e quindi a fianco verranno realizzati degli edifici sempre nell'ambito appunto dell'area vasta di Parigi abbiamo tre progetti di questa entità in questa zona ovviamente c'è tanta digitalizzazione quindi riusciamo dobbiamo anche vivere felici in una capitale quindi cerchiamo di ricreare luoghi di vita di incontro che mantengono una certa straordinarietà e quindi questi sono un po' i progetti che ora si stanno sviluppando a Parigi e poi ancora altri progetti progetti su altezza importante una torre che abbiamo appena fatto a Monte Carlo abbiamo messo molto materiale vostro ora non so se si vede un'altra torre che verrà fatta a Obervillier sarà un hotel qui e anche degli appartamenti nella parte a fianco quindi un nuovo progetto nella periferia di Parigi la Torre Signale la Torre Signale questo è un progetto che vi mostro perché mi piace molto l'abbiamo perso purtroppo questo concorso è una torre piuttosto interessante straordinaria purtroppo non siamo riusciti a vincere questo progetto ma qui vedete due torri la nostra e l'altra che viene da un architetto che si chiama Morphosis ecco dunque il progetto qualcosa che abbiamo fatto quello che non abbiamo fatto invece e questa è una torre che si realizzerà ma in realtà forse diciamo è già in corso nel senso che è già in corso forse breve in consegna Dallas qui vedete è ampiamente in costruzione credo che appunto sia in procinto di essere consegnata di essere ultimata questa è un'altra torre che amo molto a Dakar diciamo la storia è interessante perché è una torre che abbiamo avuto per una compagnia assicurativa a Dakar abbiamo presentato il progetto lo abbiamo vinto è quando il presidente l'ha visto e ha detto no no lo voglio costruire io questo progetto non lo fate voi nel frattempo abbiamo vinto un altro progetto ancora che vediamo la cosa interessante è che vedete lavoriamo sia all'esterno che all'interno non ci poniamo limiti ora passo ancora un altro progetto anche questo mi piace molto un progetto in Bulgaria guardate appunto qui quanto è importante la luce penso anche a Gio Ponti Gio Ponti diceva sempre bisogna prevedere la luce in un edificio così come si prevede la sua costruzione la luce è integrata e quindi lui pensava sempre alla luce e questa frase mi viene sempre in mento poi qualche altro progetto questo progetto è molto importante per noi perché siamo su 35-34 mila metri quadri mille start up è il più grande centro di incubatori di start up che esista oggi al mondo mille start up che sono riunite nello stesso luogo per noi è interessante perché il platea che abbiamo visto il prototipo è stato pensato per questo progetto e capirete perché quindi era una vecchia stazione una stazione di scambio dove arrivavano i treni e le merci venivano poi in qualche modo distribuite e partivano tutta la Francia questa è la stazione la lunghezza è di 310 metri quanto un TGV un treno ad alta velocità un luogo appunto in totale mutamento oggi e qui vedete noi abbiamo completamente ristrutturato questo luogo rivedrete anche gli interni irriconoscibili lo spazio enorme e vedete i platea molto discreti è stato interessante questo progetto perché l'ingegnere ci ha detto ogni spot non può pensare pesare più di 20-25 kg e quindi questi platea fanno una luce incredibile che vedrete poi il principio del lavoro è questo sono appunto delle grandi travi e poi come vedete a destra e a sinistra dei container gli start-upper arrivano lasciano le loro cose e poi possono lavorare su grandi tavoli comuni quando abbiamo progetti di questo tipo ci piacerebbe mettere appunto delle grandi lampade a sospensione però stavolta mi sono detto no non bisogna fare così la luce deve essere calda e deve creare una bella atmosfera e quindi qui è efficace vedere quanto platea sia efficace in tal senso e devo dire che anche qui nell'interno funziona benissimo vedete come funziona si lavora insieme su questi tavoli oggi ci sono già tantissime persone che lavorano insieme è straordinario questo posto ci sono dei corridoi abbiamo messo a punto un sistema che non si vede ma qui è una sorta di pezzo metallico un cavalletto che qui sul quale si avvitano i due plateo e che si aggrappano quindi la struttura da una parte e dall'altra con dei bulloni e poi abbiamo creato anche un ristorante il più grande ristorante d'Europa credo mille posti a sedore mille posti a sedere e ci sono dei bar sushi bar eccetera e quindi è un posto bello se venite a Parigi questa è la sede mondiale del gruppo L'Oreal abbiamo messo molti prodotti della casa qui un altro progetto ancora si chiama Vente Privé Vente Privé è una società che vende abiti un po' di tutto veramente vendono su internet quindi vendita online non so più come si chiama questo prodotto come si chiama questo prodotto qui siamo a Catrance uffici a Catrance uffici realizzati nell'uscita di Parigi quindi come vedete nell'ambito dello sviluppo del ministero dell'esercito è stato realizzato questo edificio ora è stato ripreso da giornali da radio e è un complesso media alle porte di Parigi poi questo è Green Office abbiamo lavorato anche per loro è un edificio ha energia positiva quindi non consuma ma produce la sua propria energia ovviamente abbiamo delle pompe di calore pannelli fotovoltaici è un progetto utilizzato da Unilever questa è la sede appunto della difesa a Parigi credo che abbiate riconosciuto delle similitudini a volte ci sono delle similitudini tra un progetto e l'altro questo è il sito di Safran a Tolosa che abbiamo realizzato insieme anche questo ora facciamo anche tante banche il credit a Ricoll sono dei grandi edifici bancari istituti bancari questi sono quelli che abbiamo realizzati abbiamo utilizzato del materiale vostro peraltro recentemente abbiamo fatto anche la sede di Google che si trova alla stazione di San Pancrazio a Londra quindi in qualche modo bisognava riprodurre questo spirito inglese londinese abbiamo utilizzato il mattone che è onnipresente in questo luogo in questo posto questa appunto è la sede di Google dicevo idem qui lo abbiamo fatto per Deco è la compagnia appunto che si occupa delle affissioni anche questa azienda si trova a Londra e con questo progetto si trova a Londra e ora abbiamo un progetto straordinario dovremmo realizzare un prodotto insieme e mi rivolgo a tutti gli amanti qui dei prodotti stiamo parlando della sede di Axelor Mittal che realizzerà appunto questo sede a Bruxelles con delle travi in metallo e qui vedete dei tiranti e delle appunto delle travi in metallo un progetto molto interessante e verrà fatto un lavoro enorme in termini di illuminazione per esterne a 35.000 metri quadri se non vado errato e si lavorerà sia sull'interno che sull'esterno quindi l'illuminazione esterna sarà comunque importante credo che sarà il progetto più importante del Lussemburgo o del Belgio dei paesi appunto di quell'area quindi vedete come è articolato a settembre inizieranno i lavori quindi sarebbe interessante lavorare insieme su questo progetto trovare qualcosa di interessante abbiamo avuto tanta fortuna a volte lavoriamo in Italia e qui abbiamo avuto la grande opportunità di fare il centro della gestione sportiva di Ferrari qui appunto vedete la vista aerea ovviamente riconoscete i vari siti Ferrari inizialmente eravamo sull'altra parte tutta l'azienda si sviluppa qui e noi abbiamo fatto la gestione sportiva che è da questa parte con tutti i pannelli fotovoltaici con questo edificio che è veramente magnifico e ne abbiamo fatto un nuovo a fianco si Adolfo ci dice che è stato fatto con luce biodinamica interamente con luce biodinamica ovviamente ci sono i passaggi come a casa vostra bisogna fare molta attenzione a passare proprio dove ci sono questi passaggi un po' militaresco ecco quindi comunque è un bel progetto e una bella azienda prima ho iniziato a raccontarvi qualcosa vi dicevo del Presidente della Repubblica del Senegal che ci ha detto non realizzerete quella torte per una compagnia privata ma per me e allora mi disse voglio costruire la sede dell'ONU quindi poi 15 giorni dopo sono tornato da lui non ha fatto nemmeno un concorso ha accettato subito la mia proposta e questo è il progetto che farò per lui è un simbolo straordinario perché come vedete visto dall'alto è come se fosse una ruota una ruota per il movimento dell'acqua ed è un progetto che attualmente è in costruzione gli abbiamo già presentato le specifiche un anno e mezzo fa con degli elementi in plexiglass gli ho presentato il modellino e gli ho presentato così davanti a lui effettivamente mi sono presentato a lui con un modellino e lui ha giocato per tutta la riunione con questo modellino toccandolo dappertutto quindi insomma gli è piaciuto quindi vedete qui l'emiciclo gli interni un luogo veramente molto bello e penso che con la riduzione del volume di nuovi spot ovviamente non vedremo più certe cose ovviamente qui vedete la vecchia illuminazione le cose cambieranno un luogo molto bello faremo insomma facciamo anche gli interni vi presento ora alcuni hotel l'ultimo che abbiamo fatto l'hotel Lutessia a Parigi la riva sinistra un luogo magnifico abbiamo ritrovato degli affreschi sotto la pittura bianca abbiamo ritrovato e recuperato degli affreschi sotto il bianco qui vedete abbiamo creato appunto una struttura con delle parti luminose degli spot posso dirvi che l'80% di questo hotel è stato realizzato da italiani stiamo parlando dell'hotel Lutessia da aziende come Poliform Poltrona Fra ovviamente che ha fatto anche alcuni mobili tutto è stato realizzato specificamente con queste per esempio queste sedute in cuoio pelle tutto è stato realizzato in modo apposito per questo progetto è stato chiamato un artista per appunto la parte del soffitto un luogo molto bello e tutti questi apparecchi sono degli apparecchi ad incastro realizzati su misura per questo progetto qui con le luce di urna i corridoi questo tipo di apparecchio si ritrova un po' dappertutto anche su tutti i piani Adolfo peccato che non sia stato tu fare questo questo prodotto a incastro le camere anche qui le camere ecco è Poltrona Fra il vostro vicino che ha realizzato quella poltrona è un bel progetto una bella poltrona perché in qualche modo bisogna lavorare bene il legno per dare quella forma e anche tutta la parte di boiserie è stata fatta da un italiano da italiani e quello è del vetro di Murano un amico che lo ha realizzato quindi il tutto è molto interessante e ovviamente tutto il marmo viene da Carrara ovviamente l'avrete riconosciuto le vasche sono scavate in blocchi di marmo quindi immaginate dei metri cubi di come dire di marmo poi con delle macchine numeriche digitali appunto vengono in qualche modo scavate queste vasche è un blocco di marmo e lo stesso per quanto riguarda il lavandino era all'origine un blocco di marmo che è stato intagliato e lavorato da queste macchine continua vado avanti perché anche i robinetti sono stati fatti da un'azienda italiana che si chiama CEA che è una bellissima azienda abbiamo realizzato specialmente questo progetto di robinetteria per loro come vedete faccio pubblicità all'Italia poi qui qualcosa che aprirà recentemente il tutto è veramente molto interessante di questo progetto di questo albergo un altro progetto di hotel che abbiamo realizzato è il Mandaran Oriental un altro hotel a Parigi mi piace molto anche questo progetto siamo a Ramatuel un albergo piccolo come vedete con una vista sul mare fantastica con delle belle camere la piscina e la terrazza direi che non è male e sempre italiani qui perché sono sempre degli italiani che hanno fatto questo siamo noi colonizzati dagli italiani poi questo è un nuovo progetto che facciamo in cantiere a Roquebrune Cap Martin un hotel così un po' sospeso sulla roccia per un nemiro del vecchio emiro del Qatar con la piscina anche qui un progetto bellissimo anche questo al momento è fase di realizzazione un progetto piuttosto sorprendente l'edificio da sul Mediterraneo vedete appunto è aperto sul mare è un luogo straordinario e anche gli interni qualche immagine di interni sul quale appunto lavoriamo qui un altro hotel Hotel Hilton a Marsiglia che abbiamo realizzato più recentemente più semplice questo è un progetto invece molto interessante il ristorante Guy Savoy con un chef stellato tre stelle ve lo consiglio perché è veramente fantastico era il migliore ristorante del mondo cioè è considerato così il migliore ristorante del mondo ecco siamo lungo Senna è anche il luogo molto bello ora qualche immagine di spazio commerciale il Caroselle du Louvre un centro commerciale che abbiamo fatto recentemente su il controsoffitto il controsoffitto è piatto ma la foto è stata realizzata diciamo con una deformazione e qui qualche luogo residenziale in Corea del Sud degli edifici di piccola entità che abbiamo realizzato recentemente no anzi non recentemente perché sono del 2005 quindi come vedete sono ancora diciamo senza tempo e poi anche delle piccole case delle casette come vedete cambiamo anche entità possiamo fare progetti colossali ma anche piccole case siamo sempre a Seoul Corea del Sud mi piacciono molto quelle case fatte così con questo aspetto un po' grezzo senza luce queste case non avrebbero senso non esisterebbero e poi uno chalet a Mejev perché lavoriamo anche in montagna non solo in Corea mi piacciono anche molto questi chalet uno chalet quasi sperimentale abbiamo messo sopra dell'ardesia appunto sull'alluminio ardesia e quindi vedete è uno chalet integrato perfettamente nell'ambiente di grande bellezza un'altra casa casa fatta recentemente per un artista che si chiama Jean-Pierre Renaud aveva una casa un po' piccola gli ho proposto di fare un progetto come se fosse un cassetto in vetro per ingrandire la casa per ampliarla a Lione un palazzo privato è interessante anche ristrutturare palazzi privati come vedete anche qui dei grandi spazi all'interno la piscina siamo nella parte interrata dello stabile e poi stiamo lavorando anche su progetti nelle Mauritius e faremo queste otto ville queste case case molto belle utilizziamo la pietra locale come limestone e quindi stiamo realizzando otto casette tutte un po' diverse con delle piscine sia all'interno che all'esterno delle ville ora invece parlo di un ambito che amo molto nel settore viticolo il primo progetto che vi presento è questo c'era un cliente con un castello un castello che il proprietario mi disse ho un castello ma è brutto che cosa mi proponi e allora l'ho ingrandito lo abbiamo ampliato questo castello gli abbiamo ridato slancio bellezza e ora lo abbiamo reso molto bello si occupano di vinificazione questa è una vinificazione con sistema a gravità perché le uve vengono in qualche modo cernite e poi appunto l'uva poi il succo dell'uva entra direttamente nelle botti senza appunto pompe con un sistema a gravità qui vedete gli interni il principio è semplice si tratta di mettere in evidenza la tecnologia dare un risalto alla tecnica della vinificazione e qui facciamo qualcosa che secondo me voi non avete mai visto questi sono degli ascensori per botti ovvero il vino è trasportato negli ascensori per fare dei blend dei tagli e poi ci sono due ascensori vedete di 150 ettolitri e poi sotto ci sono i tini nel sotto nel seminterrato e quindi qui si arriva direttamente per fare tagli blend e questi sono i tavoli di cernita le uve sono là ovviamente ci sono persone che si occupano di questa cernita e poi appunto senza un sistema di pompe entra il succo nell'impianto questo è una struttura completamente nuova vedete qui con queste immagini di barrique di botti e sotto la riserva con appunto i vari cru i vari vini e quindi praticamente abbiamo messo in evidenza tutto il processo di vinificazione questa è una sala da pranzo una sala degustazione abbiamo fatto anche le porte con l'anna di vetro e bottiglie e poi questo è un altro progetto stiamo parlando di Coste Stournel uno dei migliori vini del Bordeaux forse il meglio come vedete c'è lo stesso sistema per gravità e si tratta di mettere veramente in evidenza la tecnica la tecnologia di vinificazione osservate bene anche qui tutto l'edificio è realizzato con delle colonne di vetro e acciaio ci sono delle lame di acciaio inox molto molto bello vedete tutta la struttura è fatta in questo modo un altro progetto che abbiamo fatto Laurent Perrier lo champagne lo conoscete tutti abbiamo lavorato anche per loro di nuovo abbiamo messo in risalto questi tini questi tank appunto in inox un altro un'altra un'altra ancora un'altra ancora per Paul du Brühl idem vedete quanto è bella questa vista sui vigneti con la sala degustazione e un progetto che invece non abbiamo vinto non abbiamo fatto con una famiglia italiana che ha rilevato il Grand Marnier ve lo faccio vedere comunque comunque per rappresentarvi il concept il progetto ecco appunto avevano fatto questo progetto per presentare il Grand Marnier con delle sale ma purtroppo hanno scelto altri e non noi per realizzarlo avevamo anche ipotizzato un hotel con delle camere eccetera ora vi faccio vedere un aeroporto che abbiamo fatto recentemente l'aeroporto recentemente scusate l'aeroporto di Seul lo dico recentemente perché la seconda fase l'abbiamo realizzata nel 2018 un grande progetto e poi lavoriamo anche sulle stazioni qui siamo la stazione La Défense a Parigi siamo nei piani interrati credo 17 o anche di più sotto suolo praticamente sono delle stazioni sotterranee che collegano tutta Parigi è una sorta di grande cattedrale sotterranea oggi lavoriamo su un'altra stazione ancora una stazione molto antica del XIX secolo la stazione Dosterlitz ne abbiamo fatto un centro commerciale qui e abbiamo ricreato questa forma un po' strana in realtà è come appunto una sorta di pallone aerostatico e appunto abbiamo in qualche modo rievocato una certa epoca ed è un progetto che parte quest'anno Allora impianti sportivi qui ovviamente lo conoscete quando da Montecarlo dal Principato di Monaco si arriva in Francia si vede questo questo stadio la struttura è in legno è in metallo stiamo parlando dello stadio di Nizza Riviera vedete appunto delle strutture metalliche e gli incastri in legno con tutta la copertura ora vi faccio vedere qualcosa che è un po' uno scoop perché faremo il centro di allenamento del Paris Saint Germain Paris Saint Germain ha voluto creare un luogo con 14 campi da calcio e due aperti è una scuola perché i ragazzi potranno arrivare in questa scuola già da 10 anni e quindi già da 10 anni questi ragazzini potranno entrare nel Paris Saint Germain per seguire le lezioni ovviamente gli allenamenti eccetera vedete questo vi spiego un po' come funziona qui ci saranno le scuole con i visitatori qui altri campi e di là appunto i professionisti ecco l'equip dei professionisti si allenerà allenerà qui e a volte appunto si recheranno nello stadio tutti questi edifici sono importanti pensano di metterci anche delle aree judo e un progetto importante anche per altri sport lo stadio è molto aereo molto leggero come struttura eccolo di nuovo e questo è l'edificio iconico perché quando si arriverà sul posto ed è qui che gli studenti arriveranno prima di entrare in classe ci saranno anche ristoranti biblioteca e poi un anfiteatro insomma una lamagna sotto bellissimo progetto l'illuminazione qui non è ancora curata quindi qui un'altra arena che facciamo a Reims un pianto sportivo complesso ma è comunque interessante anche il settore sport e poi qualche altro progetto urbano abbiamo lavorato sul progetto di Mosca e poi in qualche modo ora stiamo ricevendo tantissime proposte e credo che da qui a qualche anno le cose aumenteranno ulteriormente qui faccio vedere appunto l'immagine generale di Mosca questa area vasta e come si articolano i quartieri giusto per farvi vedere il Cremlino è lì siamo vicino alla Moscova qui San Basilio e questa è la Piazza Rossa che è qui Piazza Rossa e abbiamo lavorato oggi ci sono solo auto ma abbiamo lavorato anche nelle aree verde e oggi appunto ci sono molte più aree verdi rispetto al passato appunto è un progetto che abbiamo vinto alcuni anni fa un concorso che abbiamo vinto che stiamo sviluppando e che porteremo ancora avanti con queste aree verdi qui un altro progetto abbiamo messo solo apparecchi guzzini per il momento un po' fermo ma è un progetto in corso qui ricreeremo una sorta di città intera in Gabon questo invece è un progetto che abbiamo fatto a Baku in Azerbaijan una grande area per i giochi olimpici i giochi europei scusate del 2015 e c'erano qui delle pompe per il petrolio per prelevare il petrolio ovviamente per evitare problemi le abbiamo messe in queste gabbie poi lavoriamo anche a Lione in questa parte lungo fiume c'è tanto lavoro qui da fare sull'illuminazione attenzione illuminazione delle città poi recentemente abbiamo fatto anche a NIM abbiamo fatto il progetto dei viali di Jean Jaurès una passeggiata ora vi faccio vedere anche qualcosa sul design il design è un aspetto importante per noi che si sta sviluppando molto e abbiamo deciso quindi di aprire a Milano perché tutti gli industriali si trovano a Milano e quindi abbiamo deciso di aprirci a questo settore a Milano abbiamo creato la nostra collezione di colori di pitture architettoniche voi utilizzate solo il grigio metallizzato quindi forse non siete interessati a questo poi i mobili che abbiamo realizzato per le start up sono mobili questi realizzati in Turchia in questo caso specifico sono come dire mobili adatti spazi co-working abbiamo realizzato questa collezione che è piuttosto interessante con spazi modulari si possono variare altezze e composizione quindi qui anche per esempio delle soluzioni per persone che si vogliono isolare che vogliono lavorare in tranquillità al riparo da altri e un progetto in sviluppo quindi oggi niente più paratie ma questo tipo di soluzione questo invece ha qualcosa di completamente diverso gli interni gli oggetti design dell'hotel Lutessia anche questi realizzati in Italia Paolo Castelli tutta una serie di applique molto belle giusto per farvi capire che non necessariamente fa parte del design però si parlava di un hotel art déco art nouveau e quindi bisognava creare dei prodotti ad hoc qui vedete dei sistemi in sospensione qui il grande appunto impianto per l'hotel per scusate il museo Rix Museum qui ovviamente dei sistemi di illuminazione che conoscete benissimo adoro mi piacerebbe ora ridurre le dimensioni di questo perché il composite del 2007 oltre dieci anni fa questo ovviamente conoscete benissimo Express e poi il Platea Pro che ora uscirà in tante altre varianti applicazione è un argomento che ci piace molto ed ecco perché eravamo peraltro qui oggi questi altri oggetti questa è la robinetteria CEA i robinetti questo è ciò che ha realizzato Portrona Frao questo lo abbiamo fatto nel 75 secondo me non nel 2004 come è scritto lì vabbè poi canapè tecno quindi un appunto un divano realizzato da tecno questi prodotti realizzati su ordini su ordinazione addirittura questo vedete dei portabiciclette questi per esempio sono i bidoni di Parigi sono dei cestini di Parigi bisognava realizzare un cestino particolare perché si doveva vedere tutto l'interno ovviamente immaginate con dei problemi di bombe eccetera si doveva vedere l'interno e quindi ovviamente se ci metti dentro una bomba ovviamente non rischi di essere colpito altri progetti questo per esempio una panchina mi hanno chiesto di mettere una parte all'interno questo per evitare che i clochard e i senza tetto si addormentassero quindi mi hanno chiesto di inserire questa traversa all'interno qui i bollard poi il futuro il led vedremo come si svilupperà e questo è la tram di Parigi abbiamo fatto appunto le stazioni del tram ora è tutto diciamo tram che segue tutti i dintorni di Parigi praticamente è stato riqualificato tutto il perimetro di Parigi sono state rifatte le stazioni i primi diciamo apparecchi che abbiamo fatto nel appunto tanto tempo fa questi più recenti questi primi con il led e poi abbiamo fatto anche il led urbano di Champs-Élysées abbiamo partecipato a un progetto nel 94 vi parlo ora della nostra fondazione abbiamo questa fondazione a Venezia e chiediamo ai giovani di talento di partecipare a progetti sull'innesto contemporaneo sull'innesto architettonico che cosa significa significa ridare una nuova vita una nuova anima a un nuovo uso a edifici antichi con una rivisitazione moderna senza fare dell'artefatto quindi vediamo qui abbiamo già fatto otto premi il prossimo sarà il prossimo anno abbiamo avuto la fortuna di avere Adolfo come uno degli amici della fondazione lavoriamo con tante scuole centinaia abbiamo fatto recentemente questo è un po' uno scoop che vi confido diciamo che spesso troviamo un edificio un po' all'usato dell'abbandono che si tratta di rivalorizzare con materiali dell'epoca per esempio con vetro pur portando della modernità quindi faremo questo concorso tra qualche mese troverete tutte le informazioni del caso sul nostro sito internet per quanto riguarda appunto il progetto dell'anno prossimo detto questo credo di avervi detto tutto spero di non avervi annoiato grazie grazie magari ci saranno delle domande ma concludo dicendo che sono 30 anni che collaboriamo con la Iguzzini e spero di continuare perché davvero con le nuove tecnologie abbiamo ancora tanto tempo davanti a noi dobbiamo essere creativi e innovativi bene penso che ciò che ha fatto vedere in un'ora e mezzo sia sufficiente e anche troppo veloce perché sostanzialmente abbiamo visto tante tante opere in giro per il mondo e quello che ho detto nella presentazione chiaramente lo dimostra qua con le opere che ha fatto quando vedete avete visto gli interventi all'interno dei musei e lui ha fatto i musei questi musei li ha costruiti così gli alberghi eccetera e poi c'è la parte della luce che lui ce l'ha votato sempre nel cuore e nel cervello ed è pertanto un maestro è stato anche un maestro per noi sostanzialmente perché ogni volta che pensavo a un prodotto pensavo a un prodotto e soprattutto allo spazio nel quale poi andava applicato c'è l'interno che l'esterno per gli esterni ci ha portato tanti prodotti bellissimi che per il mercato italiano noi ne abbiamo fatti diversi ma uno in particolare sostanzialmente a palo e chiaramente diventano troppo costosi perché sapete che in Italia si spende poco e male per l'illuminazione architettorale o l'illuminazione delle città sostanzialmente voi avete visto in tanti paesi del mondo la Francia è un esempio invece che fanno grossi investimenti proprio perché l'illuminazione è un elemento centrale e l'area d'urbano di per sé è un elemento centrale per la qualità della vita dei cittadini dei turisti e quant'altro insomma non per niente la Francia sotto questo aspetto è qualche anno luce avanti a noi c'è diventata però attenzione perché io ricordo quando entravamo con l'illuminazione d'arredo lì avevano le lampade il lamiero oppure il tradizionale all'antico come il passo antico come qui in Italia poi chiaramente sono state le aziende straniere la Erco prima noi dopo quando ci siamo iniziati al settore l'illuminio tecnico a creare il progetto di qualità di qualità sul prodotto e sull'illuminamento degli spazi sia in interne che in esterne ma oggi insomma la Francia è la Villumiere e a proposito Villumiere c'è Lione che ci fa anche questo incontro annuale ora è a vostra disposizione pertanto chiunque di voi deve fare qualche domanda senza problemi chi vuole rompere il ghiaccio Roberto tu che sei qui vedo che ti sei annoiato pertanto il microfono per cortesia scusa microfono volevo soltanto avere una curiosità ho un po' di esperienza nel mondo degli arredi del contract per cui però il mondo architettorale quello dell'illuminazione mi ha sempre incuriosito per capire quando dall'idea dalla genesi architettonica l'illuminazione entra nello step è nella fase progettuale lo spazio viene creato prima la corrispondenza col preesistente in contemporanea ma l'illuminazione quando viene a essere presa in considerazione e soprattutto che tipo di forzatura o di sperimentazione si fa nella progettazione con la luce non ho chiesto io di fare questo non ho chiesto io di fare questa domanda Roberto siamo qui mi adeguo all'ambiente che ha con i cittadini ma insomma veramente hai fatto una domanda per spiegare meglio come approccia il progetto grazie grazie a te grazie a te beh penso che bisogna prendere in considerazione la luce esattamente quando si considera l'architettura proprio all'inizio bisogna partire con l'idea della luce fin dall'inizio quando si pensa a un edificio a una facciata bisogna già pensare come si illuminerà quindi intorno alle finestre per esempio oppure si metterà per esempio dei linea luce su ogni cornicione eccetera quindi sì è vero mi dicono che devo rivolgermi al pubblico bisogna farlo subito fin dall'inizio ecco perché ho parlato di Gio Ponti Gio Ponti diceva che non si può pensare a un edificio senza la luce la luce deve essere presa in considerazione fin dall'inizio e poi non si possono aggiungere altre fonti luminose bisogna pensarla subito ed è questo un messaggio che dovremmo lanciare e bisogna rilanciare questo messaggio di nuovo perché la luce fa parte dell'architettura non è qualcosa che si mette dopo per illuminare un edificio bisogna progettarla fin dall'inizio subito e sarebbe magari molto più semplice immaginarla appunto fin dalle fasi iniziali è una risposta penso completa noi cerchiamo proprio con il progetto della miniaturizzazione non è questa qui una campagna di pubblicità ma insomma ci integriamo proprio con i concetti noi abbiamo sempre pensato a ridurre i volumi dei prodotti e sempre più integrare la luce nell'architettura questa è un po' una strategia filosofia che risale da quando siamo entrati nel settore dell'illuminotecnica pertanto io ritengo che sia fondamentale ma soprattutto far capire al cliente qual è la differenza tra un progetto che già prevede l'illuminazione in partenza rispetto a un progetto in cui poi la luce viene all'ultimo momento questa è una complessità prego altre domande prego penso anche che bisogna anche inserirla nei giardini non solo nell'architettura ma anche nelle aree verdi negli spazi verdi nel paesaggio prego prego buonasera architetto innanzitutto grazie per la sua interessantissima prolusione il racconto dei suoi progetti volevo chiedere volevo fare una domanda sull'innovazione non sull'innovazione dei suoi appunto progetti delle sue creazioni quanto dei commettenti con i quali ha avuto con i quali ha avuto occasione di collaborare quali sono quali sono quali sono stati i committenti che l'hanno più sfidata dal punto di vista dell'innovazione penso che i clienti che vengono da me è perché cercano qualcosa di preciso questa è la prima cosa quello che voglio dire è che i clienti che vengono da me magari si aspettano già qualcosa sanno quello che proporrò loro è tutta una questione di creatività e di relazione è il cliente che deve spingervi ad essere creativi a introdurre nuove tecnologie ovviamente noi siamo sempre alla ricerca di nuovi orizzonti nuove proposte nuovi progetti e il nostro scopo è essere creativi inventare sempre cose nuove creare una nuova tecnica quando si crea uno stadio oppure utilizzare materiali nuovi innovativi si tratta di lavorare sempre su materiali esistenti anche ma trattarli diversamente per esempio la pietra la si può sabbiare o col vetro è uguale lavorarlo in modo diverso innovativo bisogna spingersi oltre c'è un materiale di base che dobbiamo trasformare l'innovazione anche questo per esempio nella cattedrale russa ortodossa è il modo di fare delle cupole col carbonio per esempio anche quella è innovazione anche quello è un modo di fare innovazione penso che il nostro scopo sia appunto quello di trovare cose nuove ma bisogna avere anche di fronte a noi un cliente che è capace di accettarla quella innovazione abbiamo per esempio fatto quell'innovazione nelle cantine con quei sistemi che vi ho spiegato con quelle colonne di vetro e inox anche se tutta l'ossatura è fatta in acciaio o la struttura è diciamo standard ci sono delle innovazioni ma le innovazioni possono essere fatte anche sulle facciate le nuove tecnologie bisogna anche sapere un'altra cosa veramente oggi le norme stanno cambiando perché ci sono delle tematiche ecologiche bisogna illuminare meglio bisogna utilizzare la luce in modo migliore quindi c'è oggi un'evoluzione dell'architettura che dipende anche dalle norme che vengono imposte e che in qualche modo bisogna tenere conto della coibentazione dell'acustica tante cose stanno cambiando attualmente anche a livello di norme ed è un momento interessante perché permette comunque di andare avanti di giocare con la creatività la creatività è anche questo i clienti privati possono appunto essere interessanti da questo punto di vista mentre i pubblici i clienti pubblici propongono solitamente dei budget molto ridotti a volte è veramente un gioco di equilibrio bisogna veramente essere degli equilibristi ma il nostro obiettivo è usare le nuove tecnologie nuovi materiali per noi è veramente qualcosa di primordiale e la riprova è data dai progetti che abbiamo fatto ogni volta è sempre qualcosa di nuovo di difficile in qualche modo da imporre da qualche cliente buonasera io volevo farle questa domanda dunque i materiali che lei usa sono appunto estremamente moderni il carbonio il vetro l'acciaio il led e tutti i temi insomma progettuali che affronta guardano il futuro appunto la sostenibilità il risparmio energetico eccetera allora volevo chiederle come mai visto che ha questa vocazione modernista ha scelto di aprire la sua fondazione a Venezia che in un certo senso è proprio la bestia nera della modernità per tanti motivi ma anche perché poi tradizionalmente gli architetti moderni faticano molto a lavorarci quindi volevo chiederle come mai visto che appunto avrebbe potuto scegliere una grande capitale moderna come Rotterdam come Parigi Berlino o Londra insomma metteci Milano anche sì anche Milano sì bella domanda bella domanda spesso me la fanno sa penso che Venezia sia una città sia la città in cui si incrocino più artisti architetti perché Venezia dicevo perché per la Biennale di Architettura ci sono migliaia migliaia centinaia di migliaia di architetti che vengono da tutto il mondo per visitare la Biennale quindi per noi era fondamentale essere a Venezia per questo Venezia e poi c'è tanta simbologia per me Venezia è una città simbolica la fondazione l'abbiamo creata a Parigi ma subito l'abbiamo trasportata trasposta a Venezia perché Venezia è un po' un simbolo di architettura per me è una città fatta da commercianti realizzata pian piano con l'influenza architettonica pensiamo anche a quanto è avvenuto fino agli anni 50 fin dal 14esimo secolo agli anni 50 secondo me tanto dipende dalla Biennale di architettura o di arte contemporanea comunque sicuramente è la città in cui si incontrano più architetti si mangia benissimo una bella città si sta bene ovviamente ce ne sono anche altre ma penso che siano delle buone ragioni poi insomma c'è altro e siamo grosso modo del 645 dico se nessuno ancora desidera fare domande dobbiamo ringraziare innanzitutto Jean-Michel Vilmot e Borina che è la direttore generale della struttura Jean-Michel internazionale ed è una persona che ha lavorato lavora ed è sempre a fianco a tutte le problematiche logistiche non solo dell'azienda ma anche dei trasferimenti in giro per il mondo noi ci siamo permessi fare un piccolo omaggio dato che parlavamo di luce ha Jean-Michel Vilmot ma era tutto preparato dovevo leggere anche un test ma il test è inciso qua pertanto non glielo leggo gli diciamo soltanto no siccome lei mi ha dato solo questa allora io cerco di di scusa si la dedichi che è qua ecco ecco allora allora me la accendi questa un attimo allora guardate spegnete le luci che è così ecco ci abbiamo fatto comunque l'inaugurazione della Biennale della Matera città della cultura europea con circa 150 di questi oggetti soltanto la parte alta senza la base comunque è un connubio di luce e design simbolo della nostra riconoscenza per una collaborazione che ha che contribuisce ad arricchire la cultura della luce e direi arricchire anche il mondo perché il tuo contributo a livello internazionale è sempre stato estremamente importante e positivo pertanto un piccolo ricordo di una delle ultime creatività del nostro gruppo grazie a te Jean-Michel bene signori grazie a tutti buona serata e al prossimo incontro grazie a tutti